Allora, innanzitutto spero che l'incontro sia stato interessante per i ragazzi, ovviamente questa è una valutazione che spetta loro. Io l'ho trovato coinvolgente, innanzitutto per il format che prevedeva non una relazione, ma delle risposte a delle domande che venivano poste dai ragazzi. Credo che sia un format interessante, ma soprattutto utile per evitare di parlare di cose non interessanti. Ecco, insomma, questo è il discorso. E credo che i ragazzi siano, come dire, particolarmente curiosi, attenti, preparati, anche perché le domande sono un po' andate al di là di quella che è la normale, come dire, fisiologia, no? Delle domande che vengono rivolte a un magistrato, ma hanno riguardato temi molto interessanti, come per esempio il problema della rieducazione dei condannati, il problema, per esempio, del rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza. Insomma, questioni anche sostanziali, diciamo, sulle quali, insomma, ho visto una particolare sensibilità. Beh, innanzitutto spero di aver, come dire, portato un contributo di conoscenza. Poi, le conoscenze, chiaramente, si formano confrontando i diversi punti di vista. Io, ovviamente, come ho anche detto, non ho la pretesa di portare nessuna verità. Come dire, semplicemente credo di poter offrire un contributo, insomma, spero ragionato, su alcune tematiche, ovviamente, che tengono conto di quello che faccio, di quella che è la mia sensibilità, di quelle che sono le mie esperienze. Poi, i ragazzi, ed è giusto che sia così, si formeranno le loro convinzioni, come dire, vivendo, confrontando quello che ho detto con quello che pensano, ascoltando anche altre persone. Insomma, così come è giusto che sia. È un argomento veramente significativo perché credo che vi sia una necessità da parte di tutti di un coinvolgimento concreto nelle cose che, da un lato, è inedibile per quella che è la crescita delle persone e della società e che però si presenta, ecco, in assoluto contrasto con l'idea di ricavarsi un proprio spazio, diciamo, estraneandosi dal contesto. In realtà, come dire, non possiamo, credo, essere distanti dalle cose che viviamo ogni giorno. Io credo che il nostro essere cittadini presupponga, viceversa, un coinvolgimento molto forte in quello che viviamo quotidianamente. Guardi, darei lo stesso consiglio con cui ho concluso l'intervento. Cioè, quello di... siccome è stato un dibattito, mi è sembrato, al quale hanno partecipato con interesse, anche su questioni, ecco, non proprio quotidiane, diciamo, l'auspicio è quello di mantenere intatta questa loro curiosità. La curiosità credo che sia un elemento essenziale, innanzitutto per essere persone migliori e anche per essere, come dire, cittadini e parti di questo Stato migliori. Grazie. Ciao.